Se noi avremo una sede, anche piccola, abbiamo intenzione di aprire un mercato più sportello di ascolto. Nata poco più di un anno fa, a febbraio del 2017, la Onnos Fanese, non più soli, si è prefissa sin dall'inizio di sostenere la causa delle famiglie al cui interno vivono persone con un disagio psichico e che si trovano a dover sostenere tutto il pesante fardello dell'assistenza al di fuori del centro di salute mentale. Il suo presidente, di recente nomina, ha l'arduo e delicato compito di guidare l'associazione su due binari ben precisi per interpretare al meglio il mandato che gli è stato affidato. Il primo binario è quello di dover tirar fuori dalle secche culturali e sociali coloro che soffrono di questo tipo di disturbo, liberandoli dallo stigma sociale che li opprime e lavorare sull'inclusione lavorativa laddove la patologia lo consenta per dare un futuro a questi malati una volta che non avranno più il supporto della famiglia. C'è da superare una barriera un po' di vergogna, chiamiamola così, da parte dei familiari, che si sentono in colpa di niente, perché questo è un problema come tanti altri tipi di problemi fisici, di salute che si possono avere. Quindi da un lato, come lei diceva, la risoluzione dei problemi pratici, dalle pensioni al lavoro, a tutte queste altre vicende, e dall'altro lato un lavoro culturale per fare informazione nella nostra città su cos'è il disagio psichico, per fare in modo che ci sia meno diffidenza, meno paura, meno barriere in sostanza, e quindi consentire anche ai familiari di sentirsi più integrati. Depositata in giornata quindi la richiesta di una piccola sede che permetta di aprire uno sportello per l'ascolto. Detta così sembra poca cosa, ma in realtà in questo ambito c'è molto sommerso. In molti, in tanti, non riescono a trovare un interlocutore a cui esprimere i propri dubbi, angosce e domande. Ed allora chi meglio di chi vive quotidianamente la tua medesima condizione può mettersi all'ascolto? Le difficoltà sono tantissime. Infatti abbiamo pensato di costituire questa associazione perché ci siamo accorti che le strutture pubbliche non ci danno ascolto. In pratica, sì, a parte le visite mediche che i nostri congiunti fanno al CSM, vengono seguiti per carità, niente da eccepire, tutto perfetto, però il dopo è tutto al nostro carico. Però se questi ragazzi avessero un posto di lavoro, ma altro che medicine, sarebbe veramente la medicina principale perché uscirebbero da casa, avrebbero uno scopo per alzarsi al mattino, avrebbero uno scopo per vivere. Invece così sono abbandonati da se stessi, mangiano, dormono, gironzolano così, però l'elemento importante è il lavoro che già ovviamente sostituisce la seconda difficoltà che è il dopo di noi, perché lavorando si possono mantenere anche da soli e quindi noi moriremmo più tranquilli, insomma.